Il tema che abbiamo affrontato questa mattina è legato alla rigenerazione urbana ed è legato a una delle iniziative e delle attività che svolgiamo come agenzia per lo sviluppo e cioè il recupero e la valorizzazione di siti dismessi. Uno degli oggetti che abbiamo come patrimonio immobiliare è un ex zuccherificio che è localizzato a Comacchio ed è un sito di 35 ettari attualmente completamente dismesso. Su questo noi abbiamo agito tramite dei fondi pubblici con tutto il processo di bonifiche in modo tale da renderlo fruibile agli investitori e adesso anche grazie alla nuova legge urbanistica che sarà approvata dalla giunta regionale alla fine dell'anno o all'inizio dell'anno prossimo si inizierà anche tutto il processo di pianificazione con l'amministrazione comunale per poter individuare i giusti strumenti urbanistici e le corrette destinazioni per poi poter ipotizzare anche delle ipotesi di valorizzazione per questo sito.